Sergio Lorè è pronto per l'esordio sulla panchina dell'Ovidiana Sulmona. Per il neotecnico bianco-rosso si tratta dell'inizio della seconda avventura come allenatore in terra peligna. Al Pallozzi domani, per la sesta di andata del girone B di promozione, arriverà il Sant'Anna che, come neopromossa, è andato oltre le previsioni, ottenendo due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta con il Lanciano, al cospetto di Sulmonesi che non ancora riescono a centrare il primo successo in campionato. Per invertire la rotta Lorè confida molto nell'approccio mentale. Sarà una partita innanzitutto di testa, una partita di approccio, una partita di voglia, di volontà. Noi abbiamo assoluto bisogno di fare punte e la squadra deve essere pronta a tutto. I ragazzi che mi conoscono sanno come sono fatto e devono dare il 100%, altrimenti non potranno essere della gara. Al lavoro dallo scorso martedì, Sergio Lorè ha provato in settimana la squadra nell'amichevole con la Juniors, adottando il modulo 3-5-2 con i Sotti e Cucurullo terminali offensivi. Rispetto a domenica scorsa rientrerà Massimiliano Ribacco e forse anche Sciala, ancora assenti gli infortunati Petrucci Vuolo e Iacovone. I teatini del tecnico Roberto Santarelli invece affronteranno il match senza particolari defezioni. Arbitrerà Cristian Di Renzo di Avezzano, assistenti Federico Cocco e Giovanni di Cino di Lanciano. Impegno in trasferta del Raiano che a Mozzagrogna affronterà l'ultima in classifica Fossacesi, ancora zero punti. Il tecnico Aldo Di Corcia intende proseguire sulla scia dei risultati positivi. Quattro punti in due partite, l'importantissima vittoria contro il San Salvo da parte di Di Corcia con la squadra che ha riacquistato fiducia dopo un avvio difficoltoso. Dirigerà Ludovico Esposido di Pescara, coadiuvato da Fabio De Torre e Ottavio Colanzi di Lanciano. Calcio d'inizio su tutti i campi alle 15.30. Grazie a tutti.